come una danza questa è la canzone di Raffi Umberto Tozzi li abbiamo nostri ospiti il nostro grande grandissimo piacere buongiorno benvenuti bonjour diciamo che stavamo parlando in francese sì perché stavamo scoprendo un po' di altarini di Umberto Tozzi che è amico insomma nella monarchia bonegasca perché vive là va a matrimoni importanti fa cose belle nella vita è sì sì senz'altro monaco ma io insomma ho avuto l'opportunità di conoscere alber e tutta la sua famiglia sono delle persone meravigliose con cui giochi a briscola questo è renato zero che mi dice ma che fai a montecarlo insomma umberto vive a montecarlo raffaele vive vive a miami per buona parte del tempo mica male voi rappresentate l'italia e ci vediamo ogni tanto a metà strada vista mare d'altra parte no gente di mare qualcosa suggeriva qualche anno fa che dici non è casuale questa non è casuale questa canzone trent'anni dopo in realtà voi voi vi ritrovate professionalmente parlando a fare cose insieme ma umanamente parlando non è che vi siate persi in questi trent'anni no mai no non ci siamo mai persi ma ti dirò di più nonostante l'apparenza no questa cosa di monte carlo maiemico in realtà siamo gente semplice sì e tali rimane rimarremo penso perché l'indole è quella lì io sono penso di non ho proprio istintivamente non riesco non riuscire mai a tradire le mie i miei principi e miei origini e conosco umberto è una veramente una persona molto pacata semplice anche simpatica molto simpatica e roberto tozzi il gaudente abbiamo scoperto chiacchierando prima di andare in onda potremmo definire il gaudente in quanto amante delle belle cose della vita comoda delle vite aggiatta poi come tutti eh poi per carità è anche un esperto non è solo un amante no sono più che altro sono un po' viziato sotto quell'aspetto ma uno che lo dice così candidamente è meraviglioso mi piace insomma mi piace star bene mangiare bene quando posso se posso e ovviamente però consigliare agli amici cari dove andare a cena a secondo del luogo del mondo dove sono conosco un posticino dove si mangia molto bene in canada se vuoi dormire bene con mille agi si 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 chiedi a me che poi ti esatto e tutto questo l'abbiamo scoperto da enrico ruggieri l'abbiamo scoperto da lui basta chiedere a ruggieri lui è formatissimo esatto perché devi sapere che enrico ruggieri fa un'imitazione di umberto tozzi che è clamorosa e quando lo imita racconta appunto che lui conosce tutti i cinque stelle del pianeta praticamente tutti i ristoranti migliori anche in canada in australia ovunque si voglia andare basta chiedere a lui a proposito dei posti stupendi c'è l'arena di verona ecco c'è l'arena di verona di un posto stupendo che si lega alla musica perché è all'arena di verona che è ripartita diciamo così l'idea di collaborare raccontateci un po' come eravamo all'arena di verona io morandi e tozzi e tozzi e cosa è successo avete mangiato benissimo e non tre stelle poi e poi no è successo scherzi a parte che ci siamo abbiamo provato io umberto la stessa emozione di anni fa su quel palco che ci ha dato tante tante emozioni tante soddisfazioni in passato e allora abbiamo detto vabbè forse è arrivato il momento di tornare a fare qualcosa insieme e da lì è nata io li ho fatto poi dopo un po' di mesi li ho fatto sentire come una danza questa nuova canzone e da lì siamo partiti con questa canzone e poi con un tour che partirà il 30 aprile da Rimini in tutti i palasport d'Italia e poi in contemporanea nello stesso periodo nel frattempo Caterina Caselli che fa capo la Sugar questa etichetta italiana storica avendo il nostro rispettivo catalogo ha deciso di uscire nello stesso periodo con questa raccolta di brani storici dagli esordi fino a un po' di anni fa sì in questa raccolta che si chiama come voi Raf Tozzi semplicemente c'è anche la nuova versione di Gente di Mare la canzone appunto a cui facevamo riferimento prima torniamo indietro di 30 anni l'avete rifatta l'avete ricantata sì l'abbiamo rifatta per così aggiornarla un po' a livello di suono e poi e poi anche ricantata perché non ci piacevano più tanto le nostre voci dell'epoca se lo cambiate nel frattempo dai sì anche migliorate poi quindi quindi niente abbiamo abbiamo fatto questo questa nuova versione così pari tipo come era però in ogni caso molto più fresca a questo punto non ci resta che ascoltarla perché insomma dopo aver sentito insomma questa preparazione questa descrizione sui perché e per come ce l'ascoltiamo sentite appena partita Gente di Mare dalla raccolta Raf Tozzi Raf Tozzi ospiti a Bruna Mattira oggi cioè stiamo raccontando di forte di crude naturalmente mentre la canzone va bello 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 è proprio ci ci aspettiamo una bella situazione quando partirà il tour sì speriamo si capisce che c'è una bella alchimia speriamo che parta perché perché non vedo l'ora è che dovete ancora decidere come farlo perché abbiamo fatto una domanda classica uno farà le canzoni dell'altro come funzionerà lo stanno decidendo è bellissimo parlare di tutto della nostra vita eccetera eccetera è molto interessante la nostra vita per quelli però siccome siamo due musicisti io non vedo l'ora di salire sul palco allora senti parliamo del tour perché ci sono 13 date fissate dal 30 aprile fino al 25 di maggio allora partendo dal presupposto che le date le avete fissate nei luoghi dove si mangia bene dove si trova una location anche per riposarsi fatta in un certo modo a parte le battute via si girerà un po' tutta l'Italia per quanto ci riguarda la zona di copertura si parte da Rimini sarete anche ad Ancona, Milano, Firenze, Bologna, Brescia lo dico queste sono le città che interessano la vostra copertura poi ci sono ovviamente altri luoghi che visiterete in Italia lo state strutturando adesso, state pensando adesso come fanno dobbiamo ancora incominciare però io credo che sarà sicuramente un grande concerto perché adesso senza farci dei complimenti però abbiamo fortunatamente due grandissimi repertori e tra l'altro musicalmente parlando nei live le nostre canzoni hanno un impatto veramente forte e quindi è per quello che non vedo l'ora di cominciare è una grande dibidina sarà difficile togliere delle canzoni proprio perché il vostro repertorio è così vasto però dai io quelle brutte le tolgo volentieri le mie ma tanto poi ve lo diranno lo stesso alla fine del concerto quella non l'hai fatta io la volevo tanto sapere è sempre così poi quando sono tante bisogna per forza di cose fare una scelta in mezzo ci sono le festività natalizie, il capodanno vorremmo farci un po' gli affari vostri come trascorrerete quel periodo? io dopo tanti anni andrò in montagna a sciare dai, sai sciare? con la famiglia bene bene? io scio sì, bene 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 no però benino ora è un po' di anni, dovrò stare attento questa volta mai rotto nulla? zitto! no! zitto! no! zitto! oh mio dio che hanno il tour d'aprile andrò al mare è cambiato è cambiato è cambiato a Miami che c'è caldo e Umberto? no, io quest'anno vado da mia suocera con mia moglie e stiamo lì a vigilia a giocare a come fai a Montegallo la briscola la briscola faccio la tombola dal principe alla suocera alla sua suocera, sì che è fantastica e staremo lì per Natale e poi basta a tomo a casa quindi tradizione rispettata perfettamente nel tuo caso sì, sì, assolutamente sì mi piace molto avere i nostri ragazzi intorno abbiamo i nipotini insomma, c'è un sacco di... qualcuno si è avvicinato dei vostri figli al mondo della musica? io so che il figlio di Umberto che abbiamo conosciuto è già un manager, no? e gli altri? Nati, la Natasha invece non... voleva cantare da ragazzina ma gliel'ho vietato assolutamente ma come? ma povera, perché? è stonata ma no fa benissimo il playback ma insegnale dicono che si possa imparare no, è impossibile, non si può insegnare no sì, si insegna su qualcuno che ha già delle basi ci ha distrutto Nati ma la Nati, poverina, era proprio veramente cioè, imitava le Spice benissimo in playback ballava tutta figa, forte però no, no, meglio di no senti, abbiamo... e Raff? io, no, beh, Bianca si occupa d'altro anche se non è stonata anzi, io una volta avevo tentato di... perché in realtà quando la senti cantare sotto la doccia canta benissimo ma proprio lei non ha non ha nessuna intenzione proprio di fare questo mentre Samuele vedo che comincia a cimentarsi con la sua con i suoi aggeggi suona qualcosa beh, diciamo non ha non ha studiato un po' autodidatta non è proprio però produce queste sue cose da che oggi vanno molto nella musica trap eccetera ha i suoi riferimenti e scrive delle cose e poi mette anche su YouTube delle cose anche anche interessanti però insomma niente è veramente molto prematuro dire se poi ci sarà un seguito allora abbiamo ascoltato Infinito di Raff prima di tornare insieme adesso ascolteremo Ti amo la canzone sulla quale chiudiamo grande successo di Umberto i 40 anni di Ti amo quest'altro anno arriva i 40 anni il quarantesimo di Gloria io non so se ci sia in programma qualcosa no, non c'è non c'è nulla poverina il tour, il tour beh, sì potrà mai mancare Gloria in questo tour no, credo di no credo di no ma al di là di questo in ogni caso cioè io devo essere sincero ho già avuto una grande fortuna nella mia carriera e con questo bellissimo anniversario che ho passato l'altro anno di Ti amo è stato questo concerto qui del quale si parlava prima dell'Arena di Verona dove sono venuti a trovarmi insomma un sacco di amici che hanno collaborato con me nella mia carriera e poi a Raffa gli ho fatto la proposta più indecente indecente che dove è sul palco adesso non vai più via dal palco stai con me stai con me meraviglioso meraviglioso e no hai capito però dicevo sono già stato molto molto fortunato di avere fatto poi peraltro una versione con Anastasia bellissima e ho festeggiato veramente un anniversario di Ti amo meraviglioso Gloria ti inventerai qualcosa vedremo non lo so non lo so ma saremo credo molto impegnati magari l'anniversario di Gloria lo facciamo in un altro in un altro anno facciamo finta Raffa avevi un aneddoto da raccontarci no è di gente di mare che ci hanno detto gente di mare quando prima l'ascoltavamo è venuta in mente questa cosa che ci hanno detto poco tempo fa che è diventata una delle canzoni più popolari di Natale stranamente perché non niente poi nel testo originale riconduto però in Islanda pare che sia una canzone di Natale molto popolare pensa un po' in Islanda siete mai stati? no abbiamo visto il video è pazzesco perché è proprio un natalizio ma se andate a cercarlo è meraviglioso ci andiamo sicuramente ha messo una curiosità va così ah però che islandese parlo benissimo islandese sono ragazzi speriamo che ci possa ci possa essere un'altra occasione più amante perché purtroppo il tempo è finito è stato comunque un grande piacere ci dispiace però veniamo a vedervi dal vivo mi auguro di sì ci saremo grazie a Umberto Totti grazie a voi grazie a Raf per essere stati con noi grazie di cuore e adesso vi lasciamo di nuovo circunavigare l'Italia perché stanno girando un po' dappertutto sì sì non si fermano mai trovate anche il tempo di rilassarvi un attimo grazie ancora per essere venuti a trovarci tante belle cose grazie ciao ciao ciao